bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi sfide della settimana numero 10 di fortnite quelle che ci permetteranno di completare la l'outfit di mida ce n'è solamente una molto particolare che voglio andare a vedere insieme a voi ed è quella di riuscire a trovare le chiavi inglesi dorate ce ne sono un totale di 5 per tutta la mappa andiamo subito ragazzi allora a vedere la prima è assolutamente semplicissimo raggiungerla la troverete nel quadrato della mappa di 8 quindi proprio in fondo esattamente dove c'è questa serie di montagne per la precisione ragazzi dovete raggiungere il tizio formato dai tubi quindi l'uomo di ferro che vedete ovviamente là in basso e che abbiamo già visto più volte durante questa season la prima chiave inglese dorata si troverà esattamente sulla sua mano sinistra quindi molto semplice una volta che le sfide saranno attive la troverete sulla prima numero 1 fatta per quanto riguarda invece la posizione numero 2 è davvero ancora più semplice come vedete ci troviamo a pantano ragazzi e per la precisione siamo nel quadrato b 6 sopra il pozzo dove c'è questo gruppo di case basterà semplicemente arrivare alla base di quest'altra struttura in metallo un altro o meno in poche parole guarderete qua e ci sarà la chiave inglese numero 2 per quanto riguarda invece la posizione numero 3 della chiave inglese dorata non sarà altro che necessario raggiungere il faro quindi ragazzi siamo in alto nella casella c1 come vedete e una volta raggiunto il faro basterà semplicemente prendere il bordo bianco troverete esattamente in questa posizione dove sto pingando la terza chiave inglese chiave numero 3 fatta per quanto riguarda invece la posizione numero 4 della chiave inglese come vedete siamo dovuti arrivare fino a moli quindi in posizione h2 e per la precisione arrivate proprio sopra questo pezzo di tubo di metallo ragazzi come vedete una volta raggiunto troverete qua la chiave è molto semplice perché siete praticamente di fianco ad una delle due ciminiere posizione numero 4 fatta per quanto riguarda invece la quinta ed ultima posizione della chiave inglese dorata ragazzi ci spostiamo invece a moli molesti nel quadrato h4 una volta raggiunto esattamente questo piccolo gabbiottino insomma avete capito benissimo dove siamo qua ci sono le gru qua ci sono i container la chiave inglese vi apparirà esattamente sotto questo tubo in questo punto beh ragazzi anche questo video per informarvi sulle chiavi è stato fatto io vi ringrazio per averlo guardato mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao